wow 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 amici appassionati di gaming e di hearthstone oggi giocheremo il rogue di giada il mio rogue di giada con combinazioni un po particolari magari non troppo redditizie come sapete ma di sicuro molto divertenti vi dico anche che per questa settimana gli stream sul mio canale twitch che trovate in descrizione sono previsti per mercoledì ore 22 30 vi preannuncio già che ci sarà la rissa dei doni di natale se non riusciti a metterla adesso quindi otterrete il card back natalizio chi ce l'ha già attenzione raga fermi non cominciate a bestemmiare vi daranno la busta classica solita quindi non c'è problema lo giocheremo in stream e poi magari giocheremo un po di ladder questa settimana eccezionalmente ci sarò giovedì sera ancora le 22 30 giocheremo qualcos'altro vedrò e non venerdì perché venerdì ho l'asta di riparazione del fantacaccio e poi come sempre il sabato ore 22 30 andiamo subito adesso però a vedere la giada di valiera allora amico cosa ti inventi qua dai bestia dai bestia torna dove cazzo sei venuto dai bestia anduinone vrin guardati le spalle passo dell'ombra no passo dell'ombra no questo lo teniamo quello lo teniamo passo l'ombra ci servirà più avanti per creare i nostri giganteschi golem di gioada vabbè dai non è una brutta mano vediamo il nostro prete cosa ci dice si balla discreta discreta non lo giochiamo dovremmo aspettare qualcosa per combarlo questo cioè come diavolo si chiamano il raptor disumato sarebbe bello non sempre va come vuole andare vediamo cosa fa lui questo possiamo toglierlo ok daccelo un altro pirata che staiolo vediamoci da mi ha dato questo ai servitori nemici per questo turno ci siamo un taggo un taggo un taggo o un taggo che cazzo dice ma hai capito vediamo curatore del museo che cazzo fa figa beh possiamo iniziare sempre quella rimozione là dai io qua dico che devi cominciare a pescare raga molto tranquillamente sì questa è buona un taggo un taggo che cazzo vuol dire un taggo questo è buono attacco a 4 mi piace non ci può fare molto in teoria vediamo se si inventa qualcosa va là fa uscire 5 e 5 lo possiamo seccare facilmente con lui però vediamo cosa fa di altro inizia la partita e benvenuti alla vostra beh quello è ottimo però è orissimo quello questo possiamo tradarlo quello ok cosa giochiamo di altro vedete che può scarci un'altra cartella però non possiamo più eliminare quello là allora questo fa 3 danni si possiamo fare 3 danni qua e lo tradiamo così questo è un po' ok lo tradiamo così direi di sì dai però dacci qualcosa la prossima turno giochiamo lei direi non c'è verso di non giocarla drago patato vuoi vivere per sempre uuuu opiata qua raga opiatissima direi oh è arrivato va quello lo tradiamo questo se me lo rimetto in mano costa e posso rimetterlo giù ne fa altri teoricamente però se me lo insacca poi è un problema se me lo prende me lo intomba quindi lasciare così e fare così si possiamo fare così va bene vai divertiti che adesso arrivano i mostri cominciano ad arrivare spacca e ci va bene comincia ad uscire il primo si il primo uno uno vediamo cosa troviamo ok questo fino a un certo punto c'è una fastidia e viene felice è sicura è sicura il nostro amico questo è buono possiamo usarlo anche questo è buono brulicate cazzo dai 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 che siamo ancora in gara adesso usiamo la pozione quella incredibile vediamo no non puoi usare la magia su quello eh 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 non puoi usarla puoi usare i crisi di battaglia ma le magie no e neanche poteri quindi non puoi neanche curarlo vediamo se c'è qualcosa il drago qua non muore perché è un drago infatti lui lo trada e tre e cura quello sta andando in crisi Ian va bene qua esce il mostro buono 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 ci piace ci piace I like it direi di giocare a lei sì i golem sono i migliori amici di una ragazza mettere a cancio questo così in caso di dragone si moltiplicano le situazioni sì speriamo che non c'ha il mid control tech l'unica cosa è quella speriamo che non lo gioca anche se il prete devo dire potrebbe giocarlo quello che ti ruba quando hai quattro servitori te ne ruba uno a caso no drago tranquillo è pissimo pompa pompa il drago te lo tiriamo giù come vogliamo sto drago uh anche questo non è male come idea 5 danni 4 danni brulichiamo brulichiamo don't worry brulica happy come si dice in gergo dai cazzo che vinciamola c'è un bello spirito di giada che gli facciamo sta combo qua col passo dell'ombra vedi come come crescono i ragazzi lo vedo male lo vedo dubbioso sul da farsi 4 carte board piena rantolo di morte arriva un 6-6 fammi pensare bel spirito di giada ci vorrebbe però insomma la partita sembrerebbe messa bene e invece e invece no controllo mentale yeah ma scusa non potrei mettere controllo mentale sul 5-3 no non aveva senso possiamo far così giusto per vedere cosa picchiamo ma è sepolto affanculo un altro attacco così lo facciamo fuori tranquilli rimanerevi eh no non eravamo l'ital mi sta di aver missato come al solito raga invece no invece no mancava ancora un danno eh l'ho calcolato l'ho calcolato tranquillamente raga io calcolo tutto non sembra ma calcolo di brutto eravamo uno off io non guardo mai l'avversario mi piace troppo tradare il campo eh troppo figa scusate vabbè siamo ancora messi bene raga non preoccupatevi siamo ancora messi bene don't worry drive happy adesso quando mi da qualcosa tipo enzote tipo anche soprattutto il vabbè va bene argusone bran cazzo bran non possiamo usarlo con nulla dobbiamo giocare per forza lui fare 4-3-7 o fare 5 pure che poi me la intomba questa è meglio farla esplodere dai 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 teniamo Libran pronto per l'evenienza abbiamo solo un 6-6 cazzo non mi da più una minchia spirito di gialla dove sei con questo poi e passo dell'ombra madonna facciamo la combo dell'anno raga buona fammi pescare ti prego fammi pescare don't pesque me pizzicorino qua possiamo farla fuori qua no Tannos che due coglioni devo fare così shuriken si ma mettiamo Tannos così facciamo i fenoni vai un bel 7-7 salve dai però dammelo che faccio la combazza ma perché non mi deve mai premiare sto gioco maledetto premiami il problema è che se gioca enzotte io non posso più fare un cazzo perché non lo pesca c'è ancora 3 cicat non l'ha ancora pescato non l'ha ancora pescato se lo pesca siamo morti chiaramente vediamo cosa fa ancora dammi lì oh puttana Eva uh è arrivato prossimo turno possiamo fare la combo totalmente sgrava facciamo così facciamo così e pammalo eh sì lo giochiamo questo ci occupa bordo giochiamo dai dai che arriviamo la combo la combo goal la voglio fare la voglio fare però cazzo devi levarmi qualcosa levami qualcosa levamelo ti prego levamelo non aspettavo altro oh piata si 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 raga chiamate tutti i vostri familiari a raccolta no 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 c'è la combo raga c'è la combo raga io non posso rinunciare alla mia combo preferita 1 2 3 4 5 6 peccato che non possiamo più farne praticamente dai facciamolo lo mettiamo in tasca dai dai teniamolo lì e vediamo non ci credo l'ha crashato tutto eh il dislocatore mentale amico mio amico mio il dislocatore mentale non lo vedo bene tu come lo vedi il dislocatore mentale ma fammi divertire avevo ancora il signorino figa rexar non me l'aspettavo abbiamo la pastiglia abbiamo questo questo si può tenere questo va via seguiamo qualche rimozioncina vai vai rexar raccontaci ah c'è le cose di naxar ma sa anche lui è un cazzo di pro come me è il dorso di naxar ma sei eroico ragazzi vediamo cosa gioca rexar un potere eroe questo ci ammazza ci ammazza di potere eroe raga ve lo dico subito mettiamo subito questo che va bene farco del falco quindi probabilmente ah no no è un face cazzo è bella sei face sei face la vedo male raga la vedo discretamente male sei face mettiamo giù quei due e quindi è un face hunter figa ci ammazza con questo deck qua il face hunter credo abbiamo anche la provocazione che è per sbaglio vediamo cosa arriva se no fa face già qua andiamo a 20 vediamo cani tutto face eh si tutto è un face hunter cazzo come i vecchi tempi è indeciso ah tradato questo deve avere una malattia deve aver preso una malattia brutta questo qua cosa bisogna giocare qua tradiamo lui tramortimento può starci bene cominciamo a giocare quello e vediamo cosa succede abbiamo anche questo in caso di leone incazzato possiamo anche giocare lei vediamo su questo dobbiamo sbagliare direi che per non sbagliare ci sta fatela lì va bene vieni a mezzanotte che tra l'altro non c'è neanche un cazzo di cose potremmo giocare così va bene dai che dopo giochiamo lei su lei su lui l'aspettavo l'aspettavo dieci minuti fa ma è arrivato adesso va bene va bene perché non c'è un'altra sull'aspettavo se no se no se no se no se no se no dai dai zavaka dai 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 ce la facciamo cazzo ce l'ha ancora ce l'ha tolto sto stronzo minchia che bastardo proprio bastardo dentro tiro di rompente ce lo caga fuori però molto bene vediamo subito di lui lui non che questo però cosa è veramente perfetto dai dai teniamo perché siamo fucking lethal no non lo so qua abbiamo 5 danni non può ancora giocare il chiamo della selva che romperebbe il cazzo 4 7 8 8 5 13 manca della roba manca della roba per chiudere cazzo questo ci può stare possiamo rimuoverlo con lui è in auto face non può giocare più il leone ed è un'ottima cosa vediamo se usa qualcosa per rimuovere l'oro mini face rimuove il 3-3 ok sweet qua non riesco a far uscire questo forse è meglio usare questo questo è andato a face anche misplay raga è ufficiale segnatelo misplay ok ragazzi spegnatelo dai che la portiamo a casa minchia l'antern è veramente messo a cazzo di carne se riesco a battere questo mio mazzo qua un po' particolare insomma non è malvagio però un richiamo della selva va bene vediamo se trada tutto cosa fa quello lo trada questo lo rimuoviamo 4-3-7 è finita a meno che vediamo no no è finita abbiamo vinto contro hunter figa 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 eh va bene dai minchia l'anternet non è malvagia l'anternet non è il massimo ma è divertente perché hai due passi dell'ombra e come avete visto se li usi con brann magari giù e lo spirito di giada disastro disastro di golem incazzati comunque abbiamo la pugnata alle spalle rimozione pirata feste di oro perché è carta fortissima doppio brulicatore che invece va in combo chiaramente con il raptor riesumato stilettata no shuriken sono state tantissime cose tipo un due razzettori per pescare che abbiamo bisogno di pescare doppio shuriken una stilettata per pescare a fare un danno magari a volte ci serve se l'entramento perché è carta OP thalnos un solo tramortimento se potete metterne un paio magari levando la stilettata ma la stilettata a volte ci fa pescare quindi è utile per questo deck se non abbiamo in mano le combo da fare poi diventa dura un assalto dell'ombra brann perché se giochi chiaramente questi o aia diventa un problema poi controllato per farlo raptor riesumato da attaccare a tutti i rantori morte che abbiamo dentro ventaglio di lame spirito di giada tracco di zaffiro maga dell'ombra solo una ma a volte possono uscire combo veramente lol aia zampanera chiaramente il nostro amico enzot non è il miglior deck di giada probabilmente del rogue ma ragazzi puoi fare delle combo assolutamente devastanti quindi ragazzi vi ricordo gli appuntamenti in stream per ottenere la partner su twitch speriamo di riuscire a ottenere la prima o dopo mercoledì sera ore 22.30 sul mio canale twitch che trovate in descrizione questa settimana eccezionalmente giovedì sera ore 22.30 giocheremo non arston invece mercoledì sì e sabato sera ore 22.30 ancora arston e vi ringrazio allora per i like i commenti le visualizzazioni fatemi sapere cosa ne pensate della mia giada un saluto dal duca alla prossima ciao